La Meloni riceve il miglior premio per la miglior attrice dell'anno, eh sì è una che è riuscita a far credere di essere prima gli italiani e poi dai soldi agli ucraini, contro i migranti e poi non ha fatto nulla e gli sbarchi sono raddoppiati, che poi diceva contro gli americani, contro Draghi e invece contro l'Europa e invece sta con l'Europa, con Draghi e con gli americani. E' proprio una grande attrice. La Meloni riceve il miglior premio per la miglior attrice dell'anno, eh sì è una che è riuscita a far credere di essere prima gli italiani e poi dai soldi agli ucraini, contro i migranti e poi non ha fatto nulla e gli sbarchi sono raddoppiati, che poi diceva contro gli americani, contro Draghi e invece contro l'Europa e invece sta con l'Europa, con Draghi e con gli americani, è proprio una grande attrice.